Ciao a tutti, io sono Francesco su una notte paralimpica Ma non sono, mi piace fare un botto di robe E il problema fondamentale che non ho tempo perché sennò farei anche tutte le altre 1800 E sono piegata così perché altrimenti non mi si vede Quindi devo stare così estraiata praticamente Come state? Tutto bene? Cioè a me sembra un po' di parlare con dei vecchi amici Non è che perché c'è io all'inizio aperto il canale pensando di poter condividere tutta la mia vita In effetti è quello che ho fatto all'inizio Solo che dopo ho avuto mille cose, mille impegni, mille sale che si sono aperte e chiuse Tantissimi casini insomma come capita nella vita di ognuno E non sono più riuscita, se non qualche cover che ho pubblicato l'anno scorso Perché appunto mi piace molto anche cantare Però non ho fatto più di tanto Adesso quest'anno ho già pubblicato qualche cover Adesso ne ho programma molte altre Se non riuscite a registrare E chissà che la mia musica si rifonda Ma che si rifonda Il mio messaggio positivo Insomma perché Che io sono sempre stata positiva Adesso tutto Ma che fai? E quindi così E volevo solo aggiornarvi un po' Riguardo a tutto quello che mi siete persi Tra virgolette Che dopo mi era già colpa mia Comunque L'anno che ho iniziato a fare i video Ovvero era dicembre Era Natale Ho iniziato a Natale 2015 E di fatti tipo per Tutto gennaio, febbraio forse E dopo basta Solo cover Praticamente Perché registravo dal tablet di mio papà Dopo L'anno scorso me l'hanno negato neanche me E quindi mi ha detto Dai proviamoci E quindi ho registrato qualche cover Qualcosina Per il momento Non ho né un pc Né una fotocamera Videocamera E quindi registro con live Sperando che Sì c'è insomma La qualità mi sembra Accettabile diciamo Allora E mi son persa Quindi vado alle ciance E 2016 ho fatto una maturità E che se vorrete Vi farò un video a parte Perché è stata una figata E allo stesso tempo Un delirio Il delirio totale Della mia vita Ma mi ha salito molto E Praticamente Io avevo già fatto il test Ingresso a maggio Della quinta No No Ad aprile Della quinta E a maggio Avevo fatto il colloquio orale Ed è stata presa Quindi io adesso sono A secondo anno Di università Mi piace un casino Se non posso che sono In piena sessione D'esami E tipo Ho un esame Venerdì prossimo E E ho aperto tipo Le slide oggi Quindi Ok Però mi piace tantissimo Sono iscritta Alla facoltà di Pedagogia e Scienze Dell'educazione Ambito disciplinare Se vogliamo essere Giusti Quei termini Che mi è sempre piaciuto Perché Da quando Ho avuto L'incidente E se non avete Visto il video Vi lascio Il link Nell'info box Perché è molto importante Infatti fu uno Dei primi video Che feci Perché Appunto È molto importante Perché Tutti i prossimi Vlogs Challenge Eccetera Tutto lo che farò Sarò improntati Perché sono incidenti Volevo portare Anche altre cose Comunque Mi sono fessa di nuovo E Dall'altro atletico Io appunto Sono una Rattata Alimbica Dell'atletica E mi piace molto E L'anno scorso Ho avuto Una Grande Delusione Molto grande A metà dicembre Ancora Ci rimulgivavo su È stata una cosa Molto dura Perché Praticamente A giugno Feci una gara I campionati italiani Assoluti Dove Feci La con l'italiano Ma che tanto Era già mio Da cinque anni Al 2013 E No Sì C'è tanto Era già mio Da Sì No C'è anche tanto Era già mio Dal 2013 Quindi quattro anni E Praticamente Cioè io Ero Non convinta Però Sapevo di avere Buone chance Per andare Ai Mondiali Che Sono stati A Londra A luglio Metà luglio E Mi Cadde Il mondo Addosso Quando Seppi O meglio Quando uscirono Le liste Dietri Convocati Io non c'ero E No Per carità Cioè È stato Un grande shock Perché comunque Lavorare Sodo E non venire Di pagati In questo senso È stato Un duro colpo Davvero Però Alla fine Cioè Secondo me È stato Quello Il momento In cui Ho davvero Avuto In ballo Tutte le chance Che mi stavo giocando Ovvero Se continuare Con l'atletica Se smettere Di dedicarmi Alla musica Piuttosto che Al teatro Perché Mi piace anche fare Facevo Teatro Alla Carriera Universitale Come educatrice E A concentrarmi Seriamente Sullo studio Cosa che non Mi è mai Fita tanto Semplice E Con i vari Deficit E anche questo Potrò portare In video E Sì Però alla fine Ho deciso Che È la prima La pratica La stola giusta E Infatti Ora mi sto allenando Questa qua La maglietta Di stasera Ho fatto l'allenamento Ovviamente Con l'altra Ovviamente Questa qua La termica Dopo Posso facerla La maglia Fermata Perché Ovviamente Fuori ci stavano Quanti gradi c'erano 7 gradi Neanche troppo freddo Però Andai Trentino Sto cadendo dalla sedia Poi Come vedrete La camera Ha cambiato Un po' Look Perché Infatti Non sono più Come mia sorella E sono molto Happy Per questo E E Bando alle ciance Questo video Era un po' Un video Di assuntivo Anche per capire Cioè So che Sarete in 4 gatti Forse anche Di meno Però Comunque Se vi va Di Di Appoggiarmi In questa In questa Mia scelta Di condividere Con voi Le mie passioni I miei I miei Sbaghi Le mie esperienze Tutto ciò che riguarda La mia vita Per carità C'è stato di non avere Una vita Chissà Chissà cosa Perché Alla fine C'è Ognuno Ha una vita diversa Non c'è Una Ci può essere Un'esperienza comune Ma non ci può essere Una vita uguale Però io credo Di avere Un certo bagaglio Personale alle spalle Credo di avere Moltissimo da imparare Anche da voi E mi piacerebbe Crescere con voi E mi piacerebbe Insaurare Un dialogo Reciproco Con voi E sì Insomma Appunto Potrei C'è Oltre alle cover Ai vlogs Che prevedo Già di portarvi Per esempio Come i vlogs C'è ancora Quello di Copenaghen Che Sono discorso Sostata a Copenaghen 5 giorni Con la famiglia E Abbiamo fatto Quali video Solo che la famiglia Non c'era più voglia Di montarli Praticamente Quindi se mi va Faccio anche quelli Ditevi anche In quanti giorni Sono stati 5 giorni E ho più o meno Materiale Per portarli tutti Però Dipende da Cosa potete voi E dopo C'è in programma Un nuovo viaggio Che per ora Non mi spoiler Però A Pasqua C'è in programma Un altro viaggio Poi ovviamente Vorrei portarvi Altri vlogs Delle gare E gare estere Se riuscirò A farle quest'anno Sopra Speriamo E Challenge Beh Forse È già passato Di moda Però magari Ogni tanto E curiosità Su di me Certo Se Dopo Magari Cresceremo Appunto Magari Sarà carino Anche Iniziare A A rispondere A qualcosa Anche se Già lo feci Nel video Ben via Con Mattia Che ero Nel centro Quello In cui recuperai Che andai A fare Il testo E mi piacerebbe Portarvi Anche Degli Allenamenti Oppure Curiosità Sulla mia Condizione Ovvero Cose Che magari Faccio Diversamente Cose Cose Strane Cose buffe E tantissime Cose Tantissima Aneddoti Magari E magari Anche Degli Aneddoti Divertenti Che cazzo Che forma Ho preso Il mio Capello Oddio Oggi I miei capelli Sono di belli Vabbè E dopo Ho preparato Un mini video Di assuntivo Di tre minuti E mezzo Mi pare E dove Racconto Molto 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 La leggera La mia storia Con varie foto E varie video Anche Quella Molto Carina Che Potrei Che Potrei Mettere In Che Potrei Pubblicare Insomma Se Vengono E Sì Insomma C'è Ditevi Voi Datevi Anche Voi Qualche Spunto Perché C'è Io Avrei Tantissime Non Che Che Sì Insomma Se Vi Mi Ci Piaciono E Spolliciate Ditemi Cosa Mi Pensate Nei Commenti Perché Io Sono Super Disponibile E Contattatemi Puri Nei Social Su Instagram Facebook Adesso Mentre Lato Nell'info Box E Niente Ci Vediamo Ciao